Si rimane in attesa che la Regione Calabria si adopere a fare i bandi di gara per alcuni posti di Direttore Generale di Dipartimento. Nel frattempo l'Esecutivo ha attuato dei nuovi provvedimenti per colmare alcuni punti. Infatti sono stati nominati due dirigenti ad Interim per i Dipartimenti di Presidenza e Tutela della Salute. Succede che ad uscire di scena è Riccardo Fatarella, sostituito da Bruno Zito, che mantiene la direzione del Dipartimento Personale ma lascia allo stesso tempo l'Interim della Presidenza, che ora invece è assunto da Mimmo Pallaria, che mantiene le infrastrutture. Roberto Musman, assessore alle infrastrutture, insieme al Governatore e del suo Vice, ha deliberato l'atto di indirizzo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della cittadella regionale. Sempre Musman ha presentato una delibera per l'istituzione dell'anagrafe degli alloggi di edilizia sociale, realizzati con contributi regionali. Infine l'Aggiunta regionale ha approvato l'aggiornamento per il 2017 del Prezzario regionale per il settore dei lavori pubblici. Dalla cittadella giunge notizia che la stazione unica appaltante ha concluso le operazioni di gara relative all'affidamento dei servizi informatici in uso al settore tributi della Regione. formulando, così come previsto dal Codice dei Contratti, al Dipartimento Bilancio la proposta di aggiudicazione che, salvo motivi ostativi, dovrebbe essere conclusa e formalizzata entro dieci giorni. Grazie. Grazie. Grazie.